Cari amici dell'oliveto, oggi voglio parlarvi perché alcuni di voi mi hanno chiesto come cercare di gestire un po' la tendenza dell'olivo a scappare troppo in alto e comunque di dargli un'apertura maggiore alle branche, insomma di dare un'angolazione più accentuata. Io considerate che le piante, il vaso policonico lo tengo un pochino più chiuso proprio per un discorso di eventuali danni da neve però diciamo se voi siete in altre regioni che questo problema non c'è potete dare un'inclinazione maggiore al vaso policonico perché è sempre comunque importante dare più luce possibile. Una cosa principale che voi dovete osservare è che dovete considerare che ci sia luce e spazio sufficiente tra una pianta e l'altra perché così facendo noi toglieremo luce, se una pianta sarà troppo vicino ad un'altra noi toglieremo luce a una delle due piante che comunque sarà meno esposta e questa pianta tenderà ad andare in alto. Premesso che l'olivo tende ad andare in alto perché la luce è la cosa principale che va a cercare e noi con il controllo apicale facciamo in modo proprio di gestire un po' la salita in alto dell'albero senza che sia troppo vigorosa andando sempre a ricercare le cime che siano meno vigorose. Quindi se noi abbiamo una mancanza di luce dobbiamo purtroppo diradare. Diradare insomma vuol dire comunque espiantare delle piante e spostarle in un altro posto. Noi dobbiamo sempre cercare di recuperarle le piante, cioè non dobbiamo tagliare così. Io ad esempio posso farvi vedere che io ho un errore di questo genere di piante troppo vicine, nel cielo, considerate queste tre piante, qui ce n'è una in mezzo, questa in mezzo io dovrò spiantarla, la spianterò e con tutte le dovute tecniche poi andrò a posizionarle in un altro posto, tanto ho degli altri punti dove rimpiazzare. E quindi voi vedete che questa pianta ad esempio che è a fianco sta tendendo ad andare molto in alto e io qui nella potatura dovrò poi cercare di individuare delle cime che tendono a aprirmi un po' più la parte alta e gli rallentino la corsa verso l'alto. Questa è una cosa importante da sottolineare. Un altro esempio che posso ancora fare è questo, ad esempio se io volessi aprire nella parte bassa la branca primaria, teniamo ipotesi di questa, questa diciamo che qui tende ad andare un po' in alto e non troppo aperta. Se io volessi aprirla qui, allora su questa secondaria qui posso individuare ad esempio questa cima che però dovrò far sviluppare adeguatamente. Solo quando sarà un po' sarà ben definita questa cima allora io andrò a tagliare qui. Così facendo, sempre ricordatevi i tagli non rasenti e così facendo io aprirò la branca, aprirò anche le branche e farò entrare più luce. Qui teniamo conto che io ad esempio in questa parte qui luce ne ho, ma anche d'inverno ce n'è moltissimo in questa parte oggi è un po' nuvoloso ma comunque ore di sole ce ne sono moltissime perché sono su una parte alta, un altipiano. Un altro esempio, possiamo fare questo, questo olivo, ecco anche qui ne ho molta luce, comunque le piante vanno sempre su noi dobbiamo cercare di domare questa voglia di salire. Io cosa faccio? Questa qui mi va su, io questa qui la dovrò tagliare questa è un taglio che dovrò fare quando farò la potatura quest'anno e mi concentrerò su questa branca che poi svilupperà potenzialmente altre cime. Gli rallenterò la crescita e in qualche modo aprirò l'apertura delle branche. Quindi una cosa importante è individuare proprio nelle branche secondarie delle cime potenziali che possono sostituire quella che noi andremo a togliere, cioè quella che è tendente più all'interno. Anche qui io mi sono tenuto qui chiuso come ho detto prima per la neve però io qui cosa faccio? Io qui andrò a togliere una di queste due se voglio togliere questa tengo questa quando farò sviluppare un'altra di questa io farò sviluppare magari questa questa qui la andrò a tagliare ma dovrò fare in modo di far sviluppare sempre un'altra che sia almeno al 50% di quella che andiamo a tagliare. Beh beh, io spero di essere stato chiaro nell'argomento se avete domande dopo mi potete scrivere c'è anche la mail una mail che metterò sotto la spiegazione io per ora vi saluto e i prossimi video. Ciao ciao!